bentornato in questo nuovo video su vuota la spesa insieme alla mia mamma salve ci sono anch'io dopo tanto tempo che non facciamo video su vuota la spesa eccoci qui mezzi di comodo o comoda sarà un video piuttosto lungo ma iniziamo da acqua e sapone per un prezzo totale di 50 e 56 centesimi la spuma intesa intesa styling ravviva ricci all'estratto d'ortica e pantenolo questa è la schiuma che andrà ad utilizzare mia sorella gliel'hanno consigliata per il suo tipo di capello e dicono che è ottima e anche il prezzo si 1,70 avevo la matita sbavata ma vabbè sempre in trema in trema in trema in tema di trucco rimmel sun shimmer ed è una terra che è maxi bronzer texture vellutata per un effetto affronzato naturale è resistente all'acqua questo volevo dire si può usare sia sul viso che sul corpo ci sono dei micro brillanti 9 euro io ne avevo vista una double fast diciamo con due colori della pupa ma andava a costare nuova collezione della pupa quindi va bene io dove vado a puntare ed era 18 euro quindi anche no questo comunque non è per me per mia sorella perché io sul mio viso non posso utilizzare prodotti con inci pessimi perché altrimenti mi riempio di brufoli poi sapone liquido rigenerante all'olio di melograno bio ed estratto di bambù e questo è della natura verde a due profumazioni e c'è anche il avena e mandorle dolci bio prezzo convenientissimo di 99 centesimi l'uno un maxi sacco di bocconcini croccanti con pollo e tacchino però tutti però questo non è per cicciano ovviamente ma è per le sue sorelle che sono rimaste in due e i suoi nipoti insomma più quattro nipotini sì perché è diventato zio più volte cicciano per la bellezza di 6 gatti quindi dobbiamo dare da mangiare 2 euro e 19 è un buon prezzo per tutto sto barellona che è di un 2 kg quindi ne vale ed è il miglior gatto la marca si poi il fabuloso questo mia madre mi pare che l'hai provato più forte è ottimo ha una bella profumazione freschezza floreale pulisce e profuma tutta la casa un euro e 30 poi colluttorio pasta del capitano questo è per la protezione dei denti e poi abbiamo quello whitening 79 centesimi l'uno spugne che tra l'altro erano le ultime di questa linea così e arex acqua massaggio non c'è scritto spugna bagno si onda un euro 69 non poco ma di solito queste costano 99 centesimi appunto fatti brava se sono queste poi felce azzurra che io già ti ho consigliato sul mio secondo canale il rex in the wonderland quindi se ti fa piacere passa a trovarmi anche lì e questo è relax miele e fiori di levante il tempo è un pochino nuvolato e mi sa che andrà a finire molto male quindi per questo falvetto scusa un euro felce azzurra e 79 centesimi però ne vale la pena perché ho una bella profumazione ne abbiamo provate tanti io faccio la collezione che mio marito ne è patito proprio poi fairy original all in one questo è quello che fanno vedere in pubblicità 3 euro e 29 centesimi 22 capsule poi questo qui che già ti avevo fatto vedere in uno scorso video su vada la spesa ed è il casting cream gloss trattamento colorante senza ammoniaca l'ammoniaca c'è sempre ragazzi è una fregata che danno loro ma c'è sempre però non brucia la testa perché questo l'avevo provato anch'io a anni or sono ormai non faccio più tinte infatti si vede nei miei capelli che sono sanissimi visto e mi trovavo bene poi ad un certo punto non hanno fatto più il colore di questa di quello che mi serviva a me il mio biondo e quindi poi mi sono orientata su un'altra cosa ma già te l'ho detto sul mio secondo canale quindi se ti interessa approfondire l'argomento vai là comunque questo è il numero 500 castano chiaro e mia madre si è trovata veramente bene quindi te lo consiglio però è un po caro sarà anche il fatto che è della marca si purtroppo si 9 euro e 40 anzi anzi poi menta dente white no ho provato il menta dente white no quello quello con la scritta dorata l'altra volta quello che abbiamo comprato l'altra volta assieme quello che promette fa nel senso che sbianca proprio immediatamente e io quello che non ho provato quello in dorato è veramente eccezionale e c'è anche in white man si e il papà si trova molto bene 2 euro e 90 sono cavalli sì direi di sì però però diciamo ne vale la pena dav il sapone per le mani ed il viso alcuni lo utilizzano anche per il viso sì un euro e 80 due saponette mazza che barilone ecco candeggina mia madre lava un sacco quella candeggina io non ce la faccio densa verde bassissima impatto ambientale se la candeggina è un po una contraddizione protegge il tuo bucato presentando i tessuti bianchi e colorati deterge efficacemente superfici ceramiche parcellane grasse cotto 1 euro e 65 centesimi faccio vedere 3 litri poi mon amour più forza del profumo dal pulito fresh blu detersivo extra profumato 26 lavaggi però io questo qui lo utilizzo per lavare a mano ti do questa notizia no da mettere in lavatrice 1 euro e 99 centesimi spazzolo in 90 1 euro e 50 allora mia madre mi stava facendo notare che da sisa ha speso diciamo vero ma giusto prezzo rispetto che dà questo poi c'è certo 67 euro e 44 centesimi direi con tante cose si vabbè ma anche l'hai preso solo che rispetto al prezzo erano anche di meno poi qui adesso vedranno quante cose stiamo dicendo questa è una spesa proprio ricca partiamo subito con una chicca l'integratore dell'angelica da sisa vendono vari integratori a poco prezzo e questi sono veramente ottimi una volta io mi pare che hanno provato qualcuno e mi sono trovata bene questo è magnesio e potassio pass e sono in bustina addirittura magnesio potassio estratto di acerola di cui vitamina c qui c'è scritto proprio gli ingredienti sono questi certo non dobbiamo annoiare ovviamente però sinceramente poi magari chiederanno perché magnesio ma dai magnesio serve ovviamente per la sudorazione perché dobbiamo dare che non può interessare per far ridere anche le persone che ci ascoltano io sudo io sono una persona sola ma penso che suderò per un 3 4 persone mia madre può vendere il sudore diceva mio marito si alleano tutte e due siamo contenti quando ci guardiamo negli occhi siamo felici ed è finito sudorazione all'estrema potenza non lavorando è un po' pesante tanto più che qua in sicilia ci sono state 40 gradi la scorsa settimana diciamo che c'è stato caldo e ci saranno anche altre persone che ci ascoltano che avranno magari questo problema ed è importante ormai è finita l'estate però per il prossimo anno per il prossimo anno va bene qualche sudore ci sarà da spargere non credo che sia finita 7 euro e 89 centesimi il prezzo sono le lacrime come sempre poi il bastoncini non vedevi dare un attimo di tempo perché tu l'hai fatto vedere lo scontrino diciamo che abbastanza lungo ma deve andare a cercare questi grano un nome prosta no prosta comunque è un ottimo marchio sì per non loggiano a per i suggeriti crosta direttamente crosta ha fatto crosta eccoli qui infatti vedi io dicevo questa crosta qui non la trovo ah frosta con la F come in Firenze vabbè frosta basta 2 euro e 69 quanti ce ne sono dentro all'interno? 15 tanti io ho capito crosta avremmo fatto vedere di nuovo emesimamente più non lacrimare tanto è difficile è difficile e poi il Müller bianco seta con cuore di pesca sono contenta l'ho trovato 75 centesimi e ce ne è 3 l'ho fatto scorta perché lei ama gli yogurt si tantissimo non c'è capito proprio no io sono un amante per gli yogurt poi star il dado 79 centesimi 2 sacchetti di papata 2 euro e 29 centesimi 2 di marmellata al pesca no l'aldicocca l'aldicocca non piace la pesca infatti volevo controllare bene 1 euro e 69 centesimi poi polpa bella star 1 euro e 69 centesimi vabbè la lemon soda che piace anche tanto dà che mitica Valentina la mia amica Valentina ah vedi allora c'è qualcun'altra sì infatti mi ha detto sono come tua madre amo molto la cosa e di Elisa perché anche Elisa vabbè che ci piace molto sì perché poi con i video svuota la spesa ci si scambiano idee opinioni e quindi si conoscono anche i gusti di ognuna è vero 59 centesimi e tu devi sapere che di questa c'è anche l'arancia ma a me non piace non lo so perché non ho mai provato c'è anche l'arancia e a me non piace di questa marca a me non mi piacciono le cose cassate io sono tutta strana invece io sono quella proprio no non mi piacciono le cose cassate bevo solo acqua liscia non mi piacciono neanche infatti acqua liscia matura non mi piacciono non bevo caffè non bevo alcolici no non bevo aranciata non fumo scusa no sono salutista io praticamente salutista proprio ma te gallagrano capito dopo tanto tempo che ti ascoltano lo sanno ormai lo sanno sono orgogliosa di essere salutista esatto infatti non sembra l'età che hai per questo motivo ma il che verno devi fare ricordare no puoi ricordarlo tranquillamente intanto non le dimostri le dimostri io non lo so no no non lo so perché mi deve fare ricordare il tarlo che a novembre compirò 30 anni non lo so vedrai che te lo diranno anche lo sanno salutista come sei si vede cioè proprio tutto il contrario di quello che tu dici parliamo del riso no dico io stavo parlando il mio spizio è il cioccolato la pizza poi altri spizzi sono altre cose ma dico fine andiamo che diciamo che è meglio ci siamo? l'hai già presentato? ecce 2 euro e 29 altri yogurt vi chiamiamo no questo è davvero questo è davvero questo è diverso ci siamo ragazzi sistema immunitario milka hanno cambiato la confezione? sì bravissima ma me le ricordo da cosa io sono attenta ai dettagli e quanto hai detto qualcosa ci sono visto? e lo scontri 1,99 io sono attenta ai dettagli e la tua buona memoria invece come memoria io sono a zero eh dici ma a zero proprio di quelle belle potenti qua poi abbiamo i tortelloni i funghi porcini gli autentici 100% farina italiana senza conservanti aggiunti nuova ricetta panzerotti 1 euro 89 centesimi anzi no buona come ingrediente non c'è mancoglio di palma stranamente e questo voglio sentire il profumo fabuloso frutti rossi si buon profumo bellissimo fantastico vabbè i fabuloso ma comunque a parte ora gli scherzi i fabuloso sono fantastici hanno tutte delle ottime profumazioni e poi persistono anche nei capi io amo anche quello al cocco ovviamente ce l'ho a casa si soft praticamente molto evidente 2 euro e 10 no soft e l'altro fabuloso no perché non lo vedo non lo trovo siamo sicuri che noi l'abbiamo comprensata no l'ho preso io niente è nel mio scontrino e nel mio scontrino piccola confusione postavo intorno a un euro qualcosa poco si non tanto perché gliel'ho preso io a mia madre perché abbiamo scambiato un attimino perché pensavo di prenderlo io ma siccome prendo di solito sempre fabuloso ho pensato invece lo doveva prendere mia madre questo è successo infatti vedi che avevo ragione io soft visto ammorbidente 2 euro e 10 è questo nome non lo so provate a sentire si non profumo yes hai tu mi ricorda qualche profumazione penso forse tu parlavi prima della nonna Giovanna si il 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 quello proprio con sto profumazione se tu senti l'odore non è lo sentirò si poi misura i biscotti due bacchi 2 euro e 59 poi c'è da vedere ovviamente se c'era a quel tempo mi pare che ci fosse questo genere si può essere che ho la ragione guardate che ho fatto tutti i sensi ben quello a fare è da tanto noi non facciamo nessuno svuota la spesa questi sono devono essere presenti ogni volta che facciamo la spesa 2 euro e 49 e ho comprato oggi ben tre pacchi mazza mia madre come sempre fa scotta dico magari non si sa mazza è utile perché non scendo tutti i giorni ma certo è meglio fare scotta che a prendere piano poco per volta le cose cioè con la spesa sta cosa non vale certo è che se tu vai a prendere cose di mangiare tipo frutta verdura devono essere fresche non le puoi tenere in casa chissà quanto quindi non puoi fare scotta da quel punto di vista però per queste cose si si sa 99 centesimi pure di questi mia madre ha fatto scotta perché erano i tovaglioli esatto e te lo dico subito ecco perché ne ho fatti tre pacchi 75 centesimi diciamo che anche la carta igienica ha la sua utilità e due confezioni un po' di carta cos'è? no dicevo il marchio 1 euro e 9 centesimi per la precisione 0,9 centesimi per la precisione riso su riso caldo scusare questi sono i frutturi che tu hai fatto provare a tuo padre e mio padre e tuo padre non l'ha cambiata più 2,19 euro la pasta Pogliotti e queste sono le pennette mezzo penne Barilla no Barilla no Barilla perché qua c'è Barilla ah no dopo ti faccio vedere cosa che siamo verso la fine e mi sfoscano gli occhietti va bene subito 99 centesimi ah Barilla là è la pasta è Emiliana l'avevi vista l'avevi detto l'avevi detto tu l'avevi detto tu che l'avrei vista è interessante tagliate eccole qui tagliate 1 euro e 49 centesimi 3 pacchi di fettuccine sempre a cuore di carta e questa è la scottex 99 centesimi l'ho comprato per questo motivo 4 rotoli bene abbiamo finito speriamo tanto l'avete fatto con bagnere e se il video ti piace è piaciuto iscriviti regalami un like regalaci un like esatto perché io sono abituata a parlare singolarmente quindi dico regalami però regalaci un like e condividi questo filmato sui due social tutti tutti mi raccomando così il canale cresce esatto cresciamo tutte e due cresciamo io sono già cresciuta però non ho bisogno mi va bene così no io magari posso crescere d'altezza con sta cosa sono un metro e 65 però io sono già cresciuta però un pochettino in più io cresco un pochettino in più sempre almeno ma arriverai un po' dove fermarti no no l'età invece l'avanti nooo infatti io di quella che parlavo prima io sono già cresciuta va bene cosa la mia età è già perfetta sicuramente si potesse fermare adesso in questo momento ma invece va bene così e l'età quella che si ha nel cuore nella mente nell'anima non quella che si travescia all'anagrafe eh va bene dopo questa bella di saggizia esatto un bacio a